Musica Vola in un dirupo per oltre 10 metri e muore poco dopo il trasporto in ospedale a Pescara. Una domenica drammatica in Abruzzo caratterizzata da incidenti stradali e anche di montagna. La vittima è Marco Carusotto, escursionista pescarese di 59 anni, molto esperto, tanto che stava percorrendo da solo un sentiero nella suggestiva valle dell'Orfento, in territorio di Caramanico Terme. Ad allertare i soccorsi erano stati altri due alpinisti di passaggio, richiamati dalle grida d'aiuto dell'infortunato che dopo la caduta si era fermato alla base di una parete rocciosa. A tradirlo proprio la Maiella, una delle zone che conosceva meglio. Sul posto una squadra del soccorso alpino sperologico di Penne, poi è stato allertato anche l'elicottero per il trasporto all'ospedale Santo Spirito, dove Carusotto è morto per le conseguenze delle gravi ferite riportate nella caduta. Il 59enne era arrivato in ospedale con un politrauma e le sue condizioni erano sembrate subito disperate. Si allunga così il tragico bilancio dei morti tra le montagne abruzzesi che hanno superato quota 6 nel 2023. Quello precedente è ricordato addirittura come l'annus orribilis per le morti ad alta quota, 9 le persone decedute in 12 mesi, di cui 7 a causa di incidenti.